un po' più di tempo. Basta vedere il risultato dell'Umbria per capire che quella teoria che devo dire, ora io con Singaretti lavoro benissimo, con Franceschini lavoro benissimo, in questo governo si riesce a lavorare con molta più serenità del precedente, quindi non è una questione contro questo PD, ma in generale sono dieci anni che ci dicevano mettetevi insieme che potrete rappresentare un'alternativa per questo Paese. E invece il voto Umbro purtroppo, ahimè, questo esperimento che abbiamo fatto dimostra esattamente il contrario, cioè dimostra che quando tu ti metti insieme ad uno dei due poli c'è una parte di chi ti votava che o decide di votare per l'altro polo oppure non ti vota più, perché il movimento non è, qualcuno dice c'è a destra e a sinistra poi c'è il centro del movimento, no, è stato creato come altro e quindi deve mantenere la terza via e quello che abbiamo deciso per l'Umbria, perché poi lo abbiamo deciso insieme agli iscritti, è stata una soluzione che ci ha fatto capire che non è quella la strada. Poi per come la vedo io, ieri sera ho incontrato i consiglieri regionali e i parlamentari sia Emiliano Romagnoli che Calabresi, con loro ci prepariamo ad una campagna difficilissima in Emilia Romagna e in Calabria, la voglio dire da adesso.